Ciao a tutti, sono il maestro Fidelessandro Santagati e in questo video vi mostrerò la mia partita giocata contro il grande maestro Pavlovich nel torno di Lugano. Io gioco con i bianchi, ho giocato E4, il nero C6 dunque una Karokhan, D4, D5, cavallo C3 e abbiamo seguito la linea principale con D per E4, cavallo per E4 e a questo punto alfile F5. Il cavallo sotto attacco dunque l'ho portato su G3, alfile G6 e in passato ho giocato più volte questa posizione giocando alfile C4 e per esempio su E6, cavallo GE2 e poi ho sempre giocato con il piano a Rocco e quello di fare F4 e F5 dunque di attaccare in questo modo. Un piano valido però anche per evitare una possibile recuperazione del mio avversario ho preferito giocare uno schema nuovo che non avevo mai provato prima, però normale cavallo F3 è anche lo schema più giocato in assoluto in queste posizioni. Mossa abbastanza logica, difendo il centro, sviluppo un pezzo sulle linee centrali e in più posso cercare di fare cavallo E5 in un'idea interessante. A questo punto, dopo cavallo F3, la gioca cavallo D7 che serve a sua oltre sia per sviluppare un pezzo ma al tempo stesso anche ad evitare l'ingresso del mio cavallo su E5 e qui H4. Mossa che serve ad ottenere spazio sull'autodire sfruttando il fatto che la sfiera G6 ha poi le case disponibili, dunque il nero dovrà perdere il tempo per metterlo al sicuro. H6 per dare la casa H7 e a questo punto H5 per prendere ancora più spazio. Alfiere H7, alfiere D3. Apparentemente questo cambio sembrerebbe non a grandissimi da per il bianco perché l'alfiere H7 sempre sembra un pezzo più passivo, diciamo, del pezzo del bianco, del mio alfiere. Tuttavia, questo cambio è totalmente logico perché in questo tipo di schema, questa diagonale è sicuramente importante. Siccome è importante per me mantenere il controllo sulla diagonale, questo cambio va più che bene. Colfiere D3, alfiere per, donna per D3 e 6. Alfiere D2 perché chiaramente la mia idea di arroccare è lungo e oltre a D2 non ho altre case utili se non F4, preferito piazzarlo su D2. Cavallo F6, arrocco lungo. Alfiere D6. Alfiere D6 potrebbe permettere anche alfiere per G3, diciamo, indebolendo un po' la mia struttura pedonale. Onestamente ero un po' preoccupato di questa possibilità nella partita e anche per questo ho subito fatto cavallo E4. Anche se probabilmente il RB1 è completamente giocabile, perché questo cambio poi non è così buono per il nero perché dopo alfiere per, F per, ottengo comunque una buona posizione perché pur avendo una debolezza di loro di struttura pedonale ho comunque le linee aperte importanti e mi possono permettere di valorizzare la mia posizione. Dunque non è un grosso problema, però io ho anche un po' di questo, ho fatto cavallo E4 che comunque sia è una buona mossa perché nel caso in cui il nero cambia E4 io posso tranquillamente rendere con la donna e se cavallo F6 allora la donna va semplicemente su E2. Nel caso di Arocco Corto potrei avere l'idea poi di giocare con le di supportare G4 o G5 e di suggerire Arocco. Ok, dunque questa era la mia idea. Tutti io dopo cavallo E4 il mio avversario mi ha un po' sorpreso perché ha giocato alfiere C7, una mossa che onestamente non mi aspettavo perché pensavo che alfiere in C7 non giocasse granché è che forse magari più che altro poteva bloccare una linea che potesse servire al suo attacco. In realtà l'alfiero C7 non è così male nell'ottica di un ambiente difensiva perché contro l'F4 dunque rende più difficile la mia spinta G4 perché a quel punto lui potrebbe manovrare anche per cambiare qualche pezzo e dunque rendere il mio attacco totalmente inutile. A questo punto siccome avevo anche paura di manovre legate a cavallo D5 eccetera ho preferito sin da subito prendere il controllo del centro giocando C4. Una volta che il nero gioca a Rocco la lotta si definisce perché adesso il nero è roccato sull'autocorto e devo capire come attaccarlo, come attaccare il suo re. La mia prima idea è cercare di distruggere il suo Rocco, dunque la mia prima idea è di rompere in G5 e farlo con un pedone, dunque l'idea di base è sempre G4 e G5. Tuttavia il problema è come farla e se effettivamente funziona. Ho pensato a G4 immediata con l'idea anche di servire un pedone, tuttavia dopo cavallo per G4 non vedevo grandissimi piani di attacco per il bianco perché non so se Torre G1 seguiva semplicemente F5, il pedone difende il cavallo, attacca il cavallo avversario e poi ho il problema di come difendere F2. dunque non mi sembrava sicuramente granché, dunque l'ho scartata e un'altra idea che mi avevano in mente sempre legata alla spinta di G4 era Torre in DG1, tuttavia mi preoccupava molto cavallo G4 e dunque non si poteva. Un'altra idea che poi mi è passata per la mente qui era anche Torre H4 che anche questa è una mossa utile per fare G4 e dunque ho questa che travi da in mente. Poi effettivamente mi sono reso conto che probabilmente non era il caso di attaccare subito perché non ho visto un attacco rapido e immediato, allora ho preferito rafforzare un po' la posizione giocando re B1, dunque giocando la nostra profilati intanto mi sistemi re, vedo anche a seconda di come giocherà il nero, come comportarmi. Lui gioca donne 7 e a questo punto devo fare una mostra attiva, devo cercare di fare qualcosa e ho ragionato o su Torre H4 che era l'idea che ho mostrato prima, oppure alfiere C3. Alfiere C3 sembra migliorare l'alfiere però non mi ha convinto molto perché vedevo bene l'alfiere su questa diagonale anche nell'ottica di poter supportare G5, anche nell'ottica di poter controllare meglio F4, sembrava importante tenerlo su D2. Per questa ragione alla fine ho giocato Torre H4, che può da un lato supportare G4, ma dall'altro effettivamente può anche aiutarmi al centro. Torre FD8, mossa logica perché porta una Torre su una colonna semiaperta, minacciando anche il mostro come c5, cavallo 5, dunque di attivare in maniera interessante i pezzi neri e a questo punto la donna non può restare qui, però prima di sfostarla gioco cavallo per F6. Ora se è cavallo per F6 posso giocare G4, non ho problemi al centro e la spinta G5 diventa praticamente quasi inevitabile, cioè può fare cavallo H7, però posso incominciare a preparare con Torre G1 e cercare davvero di attaccare la Rocco e qui il bianco a buona posizione. Diciamo che a questo punto l'unica per bloccare tutto è cavallo G5, dopo Alfie Repair, Hper, ci sono sempre problemi futuri con H6, per il momento chiaramente quando io la Torre magari in H1, però ci sono sempre problemi perché deve stare attento un po' a questa Rocco un po' indebolito. Dunque effettivamente cavallo per F6 è problematica, per questa ragione il mio avversario è gioco donna per F6 e donna per F6 continua a minacciare, mostro come cavallo E5 e cavallo C5, dunque adesso è il momento di togliere la donna. Per questa ragione abbiamo gioco donna E2, che tra l'altro è anche su questa diagonale su cui può aiutare il G4, può difendere H5, dunque ha più funzioni, B5. B5 è una mossa che non mi aspettavo però è una mossa forte per il nero perché effettivamente mette il bianco di fronte ad una scelta molto difficile. Ora qui è chiaro che il bianco aveva un piano facile, cioè il piano giocare G4, G5 e il nero non può stare fermo, il nero deve contraattaccare. Dovendo contraattaccare B5 è una mossa che permette di attaccare rapidamente. Non ho giocato C per B5 perché non riesco a prendere il pedone per via di donna F5 a scacchi intermedie. Devo muovere il re e a questo punto dopo re A1 arriva tranquillamente la donna per B5 e il nero sta bene. Questa è una mossa che ho calcolato bene, mi sono reso conto che non mi portava a una grandissima posizione, a quel punto la torre in H4 sembrava un po' scordinata e il cambio delle donne mi portava un finale leggermente inferiore perché i pezzi non giocano benissimo. dunque sicuramente questa linea è da scartare e ho preferito invece giocare C5. C5 è molto bella perché blocco C6 che è una debolezza importante e difficile da difendere, dunque nel lungo periodo questa debolezza è sicuramente molto difficile da gestire. qui il nero prova a contraattaccare subito dal centro cercando di scardinare questa struttura pedonale, però a questo punto se vi sento alfiere C3 vado a difendere. Adesso ancora una volta cambi la natura della lotta perché mentre prima potevo avere l'idea essendo il centro bloccato G4 G5 per attaccare il re, adesso tutto il gioco si sposta sul centro. devo stare attento a questa struttura, tuttavia non è male per il bianco perché alla fine ho tutti i pezzi che agiscono bene sul centro, cioè non ho un pezzo che piacciono male, tutti mi possono aiutare. A questo punto il nero gioca E per D4 e qui un'altra mossa importante Tori H per D4, dunque la Tori che era in H principalmente anche per supportare G4 alla fine è risultata utile proprio per gestire e difendere il centro e per entrare adesso prepotentemente in gioco attaccando D7. Dunque adesso già diventa difficile per il nero trovare le mostre giuste. Donne F5 scacca giustissima perché adesso crea alcune minacce interessanti, re A1, ma c'è ancora il problema del cavallo, cioè la donna non può andare via perché sennò potrebbe mangiare il cavallo in D7. Torre 8. Torre 8 e qui ho trovato l'unica mossa che mi permette di continuare ad avere una buona posizione che è il cavallo H4, mossa importantissima perché adesso la donna non ha buone case, dunque se per esempio andasse su D2, allora il nero semplicemente fa cavallo per C5 e non ha un controgioco accettabile. Giovanni invece è cavallo H4, adesso per contro è la donna nera da avere problemi a non trovare case buone e dunque questo è un tema sicuramente molto molto interessante. Nelle mie analisi, donna G5 era meglio per il nero, penso che sia effettivamente così, a questo punto avrei pensato a donna F3 e poi diciamo la minaccia torre G4, perché chiaramente adesso i miei pezzi giocano bene attaccando G7. Dunque questa era la mia idea sostanzialmente. Tuttavia qui ho provato a prendere la donna e dopo cavallo per F5 entra in un finale che è sicuramente superiore per il bianco. È davvero difficile difendere questa posizione perché G7 è molto pressato, C6 può essere un obiettivo futuro per esempio anche con questi salti di cavallo, comunque è una posizione difficile da gestire per il nero. il nero gioco a cavallo F6 e a questo punto torre 4 D2. Inizialmente stavo pensando a cavallo per G7, tuttavia dopo un po' di analisi mi sono reso conto che non funzionava per via semplicemente di alfiere 5 intermedia e perdo materiale diciamo. Anche se probabilmente su cavallo per G7 è un po' semplicemente di migliorare il cavallo, fare torre per F2 e comunque non è messo affatto male anche perché quel cavallo non può più uscire. Dunque perderei un pezzo anche così diciamo. Per fortuna mi sono reso conto che non era gran che è e alla fine ho giocato una mossa molto tranquilla, torre 4 D2. La minaccia era F2, difendo e risolvo il problema. Torre per D2 da parte del nero, torre per D2 e a questo punto torre 8. Minaccia semplicemente amato, allora creo un'idea di fuga giocando A3. Nel caso di scacco posso andare tranquillamente in A2. Torre 1 scacco, re in A2, cavallo 4. Adesso la mia torre va subito ad attaccare l'alfiere. Cavallo per C3 e B per C3. E qui ci andrà davvero molto carino perché effettivamente il nero è riuscito ad impedonare sulla C, ma per assurdi in questa posizione particolare l'impedonatura è vantaggiosa per il bianco perché questo pedone C3 fa in qualche modo da tappo sulla colonna C ed impedirà alla torre di bloccare il pedone in maniera rapida sostanzialmente. Dunque effettivamente avere quel pedone è utile per il bianco. Alfiere F4 perché lo deve togliere essendo sotto attacco. Cavallo E7. Ora qui è possibile Rf8, però l'inversione non l'ha giocata per via di cavallo per C6 e se la torre va a caccia di pedoni, allora mi è accionato. Dunque questo è il problema. E a questo punto ha preferito giocare Rh7. Cavallo per C6. A questo punto credo che il finale sia vinto per il bianco perché è impossibile doccare il pedone C. Il nero dovrà dare un pezzo e con un pezzo in meno il finale sarà perso. Andando avanti torre 2, io ho giocato Reb1. Probabilmente non è la migliore, però preferivo evitare qualsiasi rischio legata a Reb3, alfiere C1. Dunque ho preferito giocare in me molto tranquilla quando Reb1, ho pensato che era abbastanza per vincere. Torre 1 scacco, Rec2, Torre 2 scacco, Red1. Torre per F2. E a questo punto cavallo per A7. Il cavallo per A7 è buono perché libero la casa C6 e permetto al pedone di andare avanti. Torre per G2, a questo punto torre per F7. Per me è importante togliere il pedone F7 perché io so che lui potrà dare il pezzo. Dunque è meglio lasciare da questa parte meno pedoni possibile. Questo è fondamentale. Alfiere H2, C6. Qui non ho preso il pedone perché nel caso prendo subito, arriva Torre G5 e mi complica di molto la vita. Perché adesso l'autore può attaccare e prende C5. Senza C5 il mio finale non è facile. Dunque è fondamentale per me è spingere subito, così devo prendere il pezzo. Torre G5, C7, deve dare l'alfiere. Torre per C7, Torre per H5. Ora il mio piano è molto semplice. Voglio prendere questo pedone. Una volta preso questo pedone ho un finale con un cavallo in più. Dunque ho il tempo anche di bloccare i pedoni. Cavallo per B5, H5. Cavallo D4. Porto il cavallo indietro per cercare una buona difesa. Anche per minacciare mossa del genere per prendere G7. Re G6 sembra obbligata. Re 1. Non so se questa è la mossa più precisa, però volevo evitare qualsiasi rischio. Dunque Re 1 mi dà una certa tranquillità essendo dentro il collega del pedone. Cioè posso anche difendermi solo quando glielo volendo. Torre A2. Torre B3 chiaramente non do pedoni. H4. A questo punto C4 mossa logica. Vado avanti con il mio pedone. Al tempo stesso blocco il pedone avversario. Re F6. C5. Il mio pedone va avanti. Re 5. A questo punto cavallo F3 scacco. Il re deve bloccare il mio pedone passato. Dunque deve fare Re 5. A questo punto molto facilmente gioco Torre C3. Adesso deve prendere una scelta. Se fa Re C6 per bloccare il mio pedone io prenderò il pedone H. E con un solo pedone passato il nero può prendere e abbandonare. Perché non ha alcuna speranza di fare progressi. Il nero gioca H3 però arriva semplicemente C6. E la partita è finita perché è vero si può spingere H2. Io però darò il cavallo e poi il mio pedone andrà a donna senza che si possa fare nulla. Dunque a questo punto dopo C6 Pavlovici abbandona. Perché chiaramente non c'è nulla da fare. Vi ringrazio dell'attenzione. E vi do appuntamento diciamo per i prossimi video. Ricorda di seguirmi sui social networks. E di condividere il video. Grazie.